Ciao a tutti gli amici di Media World Online, sono Nicola Micali di LG Electronics Italia. Oggi vi parlo del nuovo e fantastico OLED che viene presentato qui al CS 2016 all'Azbecas. Serie G6 LG Signature Premium. Per quale motivo? Parliamo di un prodotto con uno schermo spesso soli 2,57 mm con una soundbar integrata realizzata in collaborazione con Armand Cardon che è addirittura possibile ruotare se il televisore è appeso a parete. Ovviamente qualità top delle immagini con supporto 4K HDR ma non solo è possibile collegarlo sia ad internet per accedere ai contenuti in streaming sia al digitale terrestre che satellitare con certificazione TVSAT. Sarà disponibile in due tagli da 77 e 65 pollici, verrà importato anche per il mercato italiano da fine luglio.